Non si è veri youtuber fino a che non si litiga con qualche altro youtuber, magari un collega. Per cui preparatevi che in questo video parte il dissing a Giacomino di Entropy for Life. Ciao a tutti amici polemici e un saluto a Giacomo di Entropy for Life che spero che non se la prenderà per questo video. Recentemente Giacomo ha pubblicato un video sul junk DNA, il cosiddetto DNA spazzatura e da biologo molecolare mi sono TICCHERATO. Il DNA spazzatura è una di quelle questioni su cui i biologi si dividono in due fazioni. Da una parte quelli che A non serve a niente e dall'altra quelli che B serve a tutto. Indovinate un po', come al solito la verità sta nel mezzo. Mannaggia quanto mi sento democristiano. A parte gli scherzi vorrò usare questo video ovviamente come una critica costruttiva e anche per fare una sintesi di questo argomento. Voglio che sia chiaro infatti, lo voglio ribadire, che questo video non vuole in alcun modo essere denigratorio. Critico sì, ma denigratorio no. L'obiettivo è sempre quello di fare una corretta informazione, di essere costruttivi, tutto nel nome della scienza e della buona informazione ovviamente. Ciò non di meno, il video di cui andremo a parlare è pieno di inesattezze se non proprio errori. E mi raccomando, mi sembra inutile doverlo dire, però diciamo, nel caso non saltate alla gola a Giacomino, ci sta di sbagliare, magari poi sbaglierò anch'io qualcosa in questo video, non è quello il punto. Il punto è far vedere i dati, il punto è parlare dell'argomento, imparare a conoscerlo e magari aprire un dibattito. Ah, ovviamente vi invito ad andare a guardarlo il video di Giacomino così da sapere di cosa si parla in questo di video. Ma cominciamo, e cominciamo però con la nota più dolente e a mio avviso più grave, non citare le fonti. Opinione del sottoscritto, citare le fonti è fondamentale sia come prova di buona fede di quello che stai dicendo, ma soprattutto per fornire alle persone che sono interessate gli strumenti per andare ad approfondire quegli argomenti. Per carità, alcune non tutte le mostra a video, però dai! Cioè così uno se li deve andare a cercare a mano, capisci? Cioè la gente è pigra, cioè pure io sono pigro, ti ho maledetto che mi sono dovuto andare a cercare l'articolo scrivendo a mano il titolo. Cioè capisci? Ci ho perso ben tre secondi, capisci bene? No, a parte gli scherzi, davvero, la gente già se gli dai il link magari non ci va a guardare. Cioè ecco il problema secondo me è che la gente è pigra e quindi se non gli dai il link è difficile che vada a cercarsi le cose. Magari è difficile che ci vada a guardare anche se gli dai il link, però magari con il link ha un input in più. E secondo me è importante educare anche le persone a verificare autonomamente determinate informazioni. Per ovviare alla cosa, vi riporto io nella descrizione di questo video sia le fonti citate da lui più altre che ritengo e riterrò utili per comprendere meglio anche questo video che sto facendo. Passiamo adesso al contenuto vero e proprio del video. Video che si intitola Il 98% del DNA è inutile? Per Giacomino è vero che la maggior parte del DNA, non il 98%, ma la maggior parte è inutile. Spoiler, si sbaglia. E seguitemi fino alla fine del video per capire perché. Cominciamo con un po' di storia. Al termine dei primi sequenziamenti, parliamo degli inizi anni 2000, ci si accorse che il contenuto di geni all'interno del DNA era molto inferiore a quanto ci si aspettasse guardando quante proteine ci sono nelle nostre cellule o espresse nel nostro organismo. In particolare ci si accorse che solo l'1,5-2% di DNA codificava per le proteine. Tutto il resto fu etichettato come DNA spazzatura e si disse che non serviva a nulla, salvo poi accoggersi che non era vero che non servisse a nulla. E all'interno di questo DNA spazzatura è stato ritrovato di tutto. Magari se vi interessa potrò fare un video su questo argomento in futuro, per cui nel frattempo iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, eccetera eccetera. Ad ogni modo è qui che secondo me cominciano un po' i dolori per Giacomino, perché secondo me buona parte degli errori che ha fatto li ha fatti perché tratta un po' male alcuni concetti fondamentali per parlare di biologia molecolare, soprattutto in termini di informazione. Ovvero la differenza che c'è fra sequenze codificanti, sequenze informative e sequenze utili. Di fatto tralascia i primi due concetti e si concentra sull'ultimo. A questo aggiunge il termine di funzionale e il problema è che mi pare che usi utile e funzionale un po' come sinonimi e in maniera intercambiabile, cosa che non è correttissima. Capisco che sono concetti di non facile comprensione, soprattutto per un pubblico che non è della materia, ma penso anche che se da divulgatore non ti dai come missione quella di rendere comprensibili a questo pubblico anche concetti complessi, allora cosa stai divulgando davvero? Cerchiamo quindi di capire la differenza fra questi concetti e lo faremo con i disegnini. Facciamo che questo circhio rappresenta l'insieme delle nostre sequenze di DNA. Al suo interno ci sarà il sottoinsieme delle sequenze che codificano proteine. Sono quindi le sequenze che contengono l'informazione per costruire le proteine. Fanno quindi parte di un insieme più ampio di sequenze informative. In questo insieme sono presenti però anche altre sequenze che non vengono tradotte in proteine. Per esempio le sequenze di regolazione dell'espressione dei geni e molto altro che vedremo più avanti. Le sequenze informative sono sequenze che banalmente portano a un'informazione di qualche tipo e badate bene, l'informazione può assumere varie forme. Per esempio verrebbe da dire che sequenze ripetute tipo di nucleotidi cg 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 non abbiano informazione, ma per strano che possa sembrare anche queste sequenze ripetute portano una sorta di informazione. Infatti questo tipo di sequenze può avere un ruolo strutturale, come per esempio nei telomeri, che servono a mantenere stabili i cromosomi e sono legati all'invecchiamento, oppure ai centromeri, che sono fondamentali per la divisione cellulare. Si potrebbe obiettare però che non si può semplicemente guardare una sequenza di cg 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 e dire ah sto guardando un telomero, oppure ah sto guardando un centromero. Ed è vero! Ma è altresì vero che in quelle zone si ritrovano pochissimi nucleotidi a t. Perché? Perché i nucleotidi cg sono più stabili, per un motivo che non andremo adesso ad approfondire, delle coppie a t. Quindi nelle zone di DNA che hanno un ruolo strutturale si ritrovano i nucleotidi cg e non i nucleotidi a t. In particolare si trovano sequenze ripetute di questi cg 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 e perché? Perché hanno un'informazione, l'informazione della loro stabilità, che chiaramente non è complessa, articolata e traducibile come l'informazione di una proteina, ma è pur sempre informazione. Tant'è vero che ci sono pure patologie causate da mutazioni in queste zone, che nonostante a prima vista appaiono poco informative, sono in realtà fondamentali. Torniamo al nostro grafico, abbiamo le sequenze codificanti, abbiamo le sequenze informative, rimane da piazzare le sequenze utili. Queste però coincidono col totale del DNA, o quasi. Ebbene sì, tutto o quasi il DNA è utile a qualcosa, al contrario di quanto asserisce Giacomo. E questo non perché c'è il bisogno di sentirsi speciali, sentimento che come lui anch'io trovo deleterio alla ricerca della conoscenza, ma perché un'utilità ce l'ha davvero, anche se non codifica per proteine, anche se non porta informazione. Sono sicuro che troverete questo concetto più chiaro alla fine del video, dopo avrò fatto altri esempi di cose che contesto al video di Giacomo. Guardiamo al ruolo degli introni. Cosa sono gli introni l'ha spiegato anche lui, quindi andiamo molto brevemente. Sono tratti di RNA che vengono esclusi dalla traduzione in proteina, a differenza degli esoni invece che vengono tradotti in proteina. E a cosa serve questa cosa complicatissima? E la risposta è a produrre proteine diverse a partire dallo stesso trascritto di RNA. Per esempio, se ho un RNA formato da 6 esoni, una proteina potrà essere formata dagli esoni 2, 3, 5, 6, e un'altra dagli esoni 1, 3, 4, 6, dando origine di fatto a due proteine con struttura e funzione diversa. E quindi, qual è la funzione degli introni? Quella di essere scartati. No! Questo è quello che dice Giacomino intorno al minuto 5, e anche questo maremma se mi ha... Triccherato! Subito dopo fa un'aggiunta, che a parer mio però risulta un po' insufficiente, ovvero che a volte effettivamente negli introni si ritrovano delle sequenze che regolano l'espressione dei geni. E immagino si riferisca ai microRNA, che sono delle piccole molecole che hanno il ruolo di andare a regolare l'espressione di altri geni. Fun fact! Ho un passato con i microRNA perché proprio all'inizio del mio dottorato ho lavorato a delle malattie causate dalla disregolazione di questi microRNA, che sono particolarmente frequenti nelle malattie del neurosviluppo. Una cosa interessante. Il punto è che è stato visto che gli introni prendono anche parte attivamente al meccanismo di splicing, ovvero la selezione degli esoni da tradurre in proteina, talvolta prendendo parte attivamente al processo, cioè proprio l'introne stesso che si ripiega e aiuta la conformazione dello splice osoma, che è la struttura dove avviene lo splicing vero e proprio. Non approfondiamo. Addirittura sono stati osservati dei casi di interazione tra interazione fra introne e gene, cioè combinazioni diverse di introni e geni risultano in diverse attività di quel gene e questo praticamente nella totalità dei casi. Quindi dire che gli introni servono solo per essere scartati mi sembra solo un brutto modo di fare intron shaming. E allo stesso modo è chiaro che non è vero che in un introne ci possa essere scritta qualsiasi cosa. Passiamo ai trasposoni e scusate i problemi di inquadratura, problemi col gatto. I trasposoni sono sequenze che hanno la particolarità di poter saltare da un punto all'altro del genoma e creare copie di sé. Ora, su questo punto del video di Giacomo io ho da fare due appunti. Il primo riguarda l'utilità del fenomeno che lui definisce letteralmente inutile. In realtà è decisamente accettata nel mondo scientifico l'idea che la generazione di nuovo DNA, di nuovo materiale genetico, ad opera dei trasposoni, sia uno dei motori principali dell'evoluzione e uno dei meccanismi chiave per la nascita di nuove geni, ma soprattutto di nuove funzioni. Ad esempio, potremmo avere il gene A che codifica per una proteina fondamentale per una funzione, che chiaramente non può mutare perché nella stragrande maggioranza dei casi perderebbe quella sua funzione. Ma se io creassi una copia di A in un punto diverso del genoma, a questo punto uno dei due geni potrebbe mutare liberamente e magari acquisire nuove funzioni fino a diventare un gene diverso. I trasposoni in sé non duplicano i geni, non è quella la loro funzione, ma di tanto in tanto può capitare che se ne portino dietro qualcuno o parti di essi, creandone quindi delle copie. E a riprova di ciò, i genomi sono pieni di geni omologhi fra loro che si sono originati in questo modo. E questo è solo uno dei meccanismi con cui i trasposoni guidano l'evoluzione. Di nuovo vi lascio un articolo in descrizione se avete voglia di leggerlo. È tanta roba. Il secondo punto riguarda invece il grafico che lui fa vedere in questo punto qui del video, dove dice che gran parte delle differenze di dimensioni che si osservano fra genomi diversi di specie diverse sia dovuto all'azione dei trasposoni. Ma questa cosa banalmente non è vera, è sbagliata. E si vede dal grafico. I trasposoni sono quelle barre blu e mai nella vita sono quelle che rendono delle differenti dimensioni. Certo, chiaramente un effetto ce l'hanno, ma di sicuro non il grosso delle differenze, che sono invece più da scriversi al differente contenuto in sequenze ripetute. Quelle sì, poco anche informative. E ripeto, mi sembra abbastanza evidente dal grafico. Continuando, per sostenere l'idea che la maggior parte del DNA sia inutile, e fa l'esempio del test della cipolla. Domanda posta dal biologo evoluzionista Ryan Gregory proprio come argomento contro l'utilità del DNA spazzatura e che dice più o meno così. Qualunque sia la funzione che proponi, chiediti questo. Posso spiegare perché una cipolla necessita una quantità di DNA spazzatura 5 volte maggiore per la stessa funzione che svolge nell'uomo? Ora, secondo me questa domanda è pretestuosa ad essere generosi. Tanto per cominciare, qualsiasi biologo evoluzionista sa per esempio che l'evoluzione assolutamente non predilige l'efficienza. Anzi, a volte, nella maggioranza dei casi, crea degli accrocchi inguardabili. Basti pensare alla retina dei vertebrati che di sicuro non è la soluzione più efficiente. A volte, è sufficiente che qualcosa funzioni per essere mantenuta. Non c'è necessità che funzioni perfettamente. Come dice anche Giacomino, si fa quel che si può con quel che si ha a disposizione. Sottolineo che Ryan la butta sulla necessità. Ma nessuno ha mai detto che quel DNA spazzatura è necessario. Casomai, si può dire che sia utile. Perché anche una cosa non necessaria può essere utile e una cosa utile non è detto che sia necessaria. Non sono sinonimi. Per esempio, voi non avete bisogno di scarpe per camminare. Però aiutano. Oppure, un animale non ha bisogno di otto zampe per camminare. ne bastano quattro. Eppure gli arachnidi ne hanno otto. Perché hanno bisogno di otto zampe per camminare quando ne bastano quattro? Vogliamo dire allora che le otto zampe degli arachnidi sono inutili? Se lo chiedete a me, messo in così, il test della cipolla non sembra più un'argomentazione così brillante. D'altra parte, invece, sappiamo che l'evoluzione tende a eliminare le cose che sono inutili. Di sicuro quelle dannose, ma anche quelle inutili. Quindi, è vero che alcune soluzioni magari non sono fondamentali, ma sono utili, quel tanto che basta, da essere mantenute. Il test della cipolla potrebbe essere quindi rovesciato e io chiederei a Ryan Gregory e a tutti i sostenitori di Ryan Gregory la domanda inversa. Perché la cipolla mantiene così tanto DNA? Se è inutile. La risposta è che probabilmente non è così inutile, semplicemente non sappiamo qual è la sua utilità. Però, come sempre, l'ignoranza su un argomento non è una buona argomentazione contro l'argomento stesso. E comunque, una spiegazione del perché alcuni organismi abbiano dei genomi così enormi, spropositatamente enormi, ci sono. Basta andarsela a cercare. Vi consiglio di approfondire l'argomento del C-value enigma. Vi lascio la pagina wiki in descrizione, è un buon punto d'argomento, oppure magari ci facciamo anche un video in futuro, eh? Chissà. Poi ci sarebbe anche la questione che le cipolle appartengono a un regno dei viventi completamente diverso dal nostro, che hanno dei meccanismi molecolari completamente diversi dal nostro, tipo il trasferimento orizzontale dei geni o il fatto che possono accumulare più copie del genoma, cosa che nei vertebrati è assolutamente impossibile, da origine a malattie anche gravi, a volte addirittura a parole non vitale. Le piante tollerano cose che noi non possiamo tollerare, quindi non è l'esempio migliore in my humble opinion. E andiamo a, secondo me, uno dei punti peggiori del video di Giacomino, ovvero quando parla dello studio ENCODE, uno studio enorme, gigantesco, che fu fatto per gettare luce sulle funzioni del DNA non codificante. Questo studio avrebbe smentito il fatto che il DNA spazzatura non serva a niente e Giacomo critica queste conclusioni e fonda buona parte della sua critica sulla definizione che danno nello studio ENCODE di funzione biologica, che quelli dello studio intendono come interazione fra due attori, generica interazione fra due attori. Proteina-proteina, proteina-DNA, DNA-DNA, qualunque interazione. E fa anche degli esempi un po' pittoreschi su questa cosa. In pratica sostiene che non si può definire come funzione biologica l'interazione fra due attori se questa interazione non serve a qualcosa. E ha ragione. Ma lo studio non parla di funzione biologica. A dire il vero, i termini biological function non appaiono mai in quello studio. Quelli che appaiono invece al quarto rigo, non in fondo nascosti, al quarto rigo, sono i termini biochemical function, funzioni biochimiche, che è il vero argomento di cui parla lo studio. ENCODE ha infatti trovato per l'80% del DNA non codificante funzioni biochimiche, non biologiche. E in questo caso, sì, l'interazione proteina-proteina, proteina-DNA, DNA-Proteina, DNA-DNA, quello che volete, è una funzione biochimica. Le interazioni sono funzioni biochimiche, anche se non hanno una funzione biologica. So che di nuovo sembrano differenze da pignoli, ma vi assicuro che non è così. Prendiamo ad esempio questa particolare classe di proteine, chiamate calcium binding proteins. Sono proteine che, come dice il nome stesso, legano ioni calcio, ne legano fino a 4. In base a quanti ioni calcio hanno legate, queste proteine regolano tantissime cose all'interno delle cellule. Per esempio, per deformazione professionale mi vengono in mente quelle che nei neuroni regolano un tipo di canali del potassio, che sono dei canali di membrana fondamentali per la trasmissione sinaptica. Vabbè. Ecco, in questo caso è molto facile capire la differenza fra il legare gli ioni calcio, funzione biochimica, e regolare lo stato dei canali del potassio, che invece è la funzione biologica. Ci sono ovviamente casi in cui le due funzioni coincidono in determinati tipi di proteine, ma in questo caso, e questo esempio l'ho scelto proprio perché, secondo me, spiega molto bene come non siano la stessa cosa. E andrebbe anche evidenziato come da interazioni senza funzioni si possono poi originare nuove funzioni, proprio perché si sta parlando di attori che possono mutare senza problemi, non hanno pressione selettiva e quindi possono accumulare mutazioni liberamente, e ogni tanto può darsi che tra le tante mutazioni venga fuori qualcosa che doni una nuova funzione a queste proteine o a questi attori di cui stiamo parlando. Non limitiamo il discorso alle proteine, è riduttivo. Arriviamo al minuto 12 e 30 quando Giacomino dice che non possiamo dire che tutto il DNA ha una funzione a meno che non vogliamo ammettere che anche occupare spazio è una funzione. Ma occupare spazio è una funzione. È anche molto importante. Vi faccio un esempio fra tutti. Un gene viene trascritto quando in una sequenza posta vicino ad esso si assembla il macchinario della trascrizione. Questo macchinario è un complesso agglomerato di proteine con funzioni diverse tipo una separa le due eliche di DNA, una le stabilizza, una copia i nucleotidi, eccetera eccetera. La sequenza a cui si lega questo macchinario è chiamata promotore e si è visto che deve essere ad una distanza ben precisa dall'inizio del gene oppure non funziona. Poi ancora, ci sono sequenze che possono aumentare la trascrizione di quel gene si chiamano enhancer a cui anche qui si legano proteine che se interagiscono col macchinario della trascrizione ne aumentano l'attività. Queste sequenze devono essere abbastanza distanti dal promotore perché se no il DNA non riesce a piegarsi sufficientemente da permettere l'avvicinamento dei due complessi proteici. Allo stesso tempo non possono però essere troppo distanti o in zone di DNA la cui conformazione impedirebbe la loro interazione. Oppure sì, se quell' enhancer non deve funzionare. Insomma, occupare spazio è una vera e propria funzione. Non siete ancora convinti? Allora ve ne dico un'altra. Occupare spazio protegge dalle mutazioni. Ed è abbastanza facile capire perché. Se la maggior parte del mio DNA non codifica proteine né porta informazione è molto probabile che le mutazioni casuali che avvengono di continuo cadano in un punto del genoma dove non farà danni. Fatemi spiegare meglio questo punto perché immagino possa creare confusione a chi non è avvezzo a ragionare in termini probabilistici. Si potrebbe essere portati a pensare che un genoma più grande accumuli più mutazioni di uno più piccolo. E questo è vero ma solo in valore assoluto. Per esempio ipotizziamo di avere una sequenza A di 10 paia di basi e una sequenza B di 5. Osserviamo che la sequenza A accumula 4 mutazioni nel giro di un anno. La sequenza B accumula invece 2 mutazioni. Apparentemente il tasso di mutazione è uguale nei due casi perché 4 su 10 è uguale a 2 su 5. Questo è vero nel caso di mutazioni dovute ad errore di replicazione. Ma cosa succede se guardiamo alle mutazioni causate da fattori esterni come le radiazioni tipo quando stiamo al sole? In questo caso ogni mutazione è un evento casuale indipendente e può avvenire anche più volte nello stesso punto. Facciamo che in questa nostra sequenza ci siano due paia di basi fondamentali per il funzionamento dell'organismo e mettiamola la bella fonte di radiazione fra queste due sequenze. Questo sole emette casualmente una radiazione che può colpire le nostre basi. A questo punto nella sequenza A ogni mutazione avrà 2 su 10 quindi 1 su 5 probabilità di colpire una di queste basi importantissime. Nella sequenza B invece la probabilità è di 2 su 5 quindi il doppio. Il genoma B è in questo caso dunque molto più vulnerabili alle mutazioni. Se ancora non siete convinti vi faccio un altro esempio. Facciamo che questi pallini sono in realtà bicchieri da beer pong che dovete colpire da bendati e senza sapere dove siano quelli bianchi e dove quelli rossi. Un vostro amico vi darà 10 euro ogni volta che colpite un bicchiere bianco ma dovrete pagarne 100 ogni volta che la pallina finirà in uno rosso. Giochereste nella partita A o nella partita B? Se avete risposto la B o pensate che sia uguale il mio consiglio è di evitare di scommettere a qualsiasi gioco. Oh e se anche dopo questo esempio non siete convinti possiamo rifare i conti insieme eh? No però ci tengo a dire che questo è un argomento abbastanza controverso ed abbastanza difficile proprio da modellizzare però ci sono delle evidenze al riguardo. Capite perché allora queste sequenze pur non avendo una funzione biologica siano utili cominciate a capire la differenza fra i due concetti? Su questa questione delle mutazioni vi lascio in descrizione un articolo di Dan Graur non so come si pronuncia che si è preso la briga di calcolare quale sia la percentuale massima di DNA codificante che può essere presente in un genoma e trova che questo limite massimo per gli esseri umani è del 15% quindi nel genoma umano almeno l'85% deve essere DNA non codificante DNA cosiddetto inutile che a questo punto a me mi sembra di dire che così inutile non sia se ce n'è bisogno di almeno quella percentuale ma a un certo punto forse le incomprensioni nascono dalle definizioni questo valore è fondamentale perché appunto se ci fosse più del 15% di genoma codificante la probabilità di accumulare mutazioni nei geni importanti quindi di conseguenza anche il numero di mutazioni nei geni importanti nei geni codificanti nei geni fondamentali diventa troppo alta e il genoma diventa instabile la specie a lungo andare non riesce più a sopportare le mutazioni i genomi si degradano diciamo la specie si estingue di fatto curiosamente anche Dan Graur si scaglia contro i risultati di ENCODE proprio anche lui contestando il discorso dell'80% delle sequenze con funzioni biologiche però secondo me di nuovo errori di interpretazioni si parla di funzioni biochimiche non di funzioni biologiche e quindi voglio ribadire la differenza tra dire che una sequenza ha una funzione dal dire che quella sequenza è utile quindi di sicuro abbiamo un valore minimo di DNA spazzatura fra virgolette che dobbiamo avere noi però probabilmente ne abbiamo anche di più questo non è che però sta lì perché si è evoluto è una sorta di expectation un altro concetto caro a tutti i biologi evoluzionisti come dicevo prima come per il discorso dell'utilità a volte non è che una cosa deve essere per forza necessaria banalmente abbiamo aumentato la percentuale di questo DNA nel nostro genoma non è inutile l'evoluzione l'ha conservato un po' come la sedia quella in camera vostra quella che avete preso dal salotto l'avete appoggiata un attimo lì mentre passavate l'aspirapolvere nelle altre stanze poi avete fatto l'errore di appoggiarci una maglietta e da quel momento quella sedia è diventata una succursale dell'armadio expectation però a questo punto spero di avervi convinto che quelle sequenze pur non avendo una funzione sono utili quindi di fatto forse uno potrebbe dire che ah vabbè ma ti sei triggerato su una definizione perché in effetti stiamo a parlare della differenza fra funzionale e utile però secondo me è una differenza fondamentale ed è una differenza che quando si parla di genoma secondo me va spiegata bene e di nuovo lo ribadisco lo voglio ribadire l'evoluzione lo sappiamo empiricamente lo sappiamo che tende ad eliminare le cose inutili anche perché portarsi dietro del dna ha comunque dei costi in termini metabolici questo vuol dire che comunque sia portarsi dietro più dna del necessario deve valere la pena per qualcosa poter proteggere anche da alcune mutazioni che possono avvenire probabilmente è un vantaggio sufficientemente alto aumenta la fitness della specie di quel tanto che basta da non essere eliminato e non poter essere considerato quindi inutile infine Giacomino dice che c'è un modo per distinguere le sequenze utili dalle sequenze inutili ed è andare a vedere se sono soggette a selezione naturale perché solo le sequenze utili lo sarebbero e vi sarà chiaro per quanto detto finora che questa definizione è sbagliata perché anche sequenze non sottoposte a selezione naturale possono essere utili tipo le sequenze che assorbono mutazioni chiaramente possono assorbirne quante ne vogliono quindi non essere sottoposte a selezione naturale eppure sono utili oppure le sequenze duplicate di geni o pseudogeni che possono chiaramente accumulare mutazioni ma che sono utili anzi direi fondamentali per l'evoluzione non per la fitness dell'organismo in quella generazione ma fondamentali per la fitness della specie soprattutto sul lungo termine sul lungo periodo e quindi capite anche come mai come dicevo a inizio video sì è possibile dire che tutto il DNA è utile che è diverso dal dire che tutto il DNA ha una funzione di nuovo voglio precisare che questo video non ha l'obiettivo di denigrare sono solo un biologo molecolare particolarmente pignolo palloccoloso e polemico che si triggera malissimo molto facilmente e anzi spero piuttosto che questo video l'abbiate trovato molto utile e informativo e che insieme al video di Giacomo che vi invito nuovamente ad andare a vedere vi abbiano aiutato a formarvi una conoscenza più approfondita di questa questione che insomma non è banale è molto complessa voglio concludere con un consiglio mio che mi sento di dare a Giacomino capisco la passione nell'attaccare l'antropocentrismo anch'io non mi risparmio mai è un sentimento che mi sta profondamente sulle balle però occhio a non essere anche troppo affezionati al voler smontare l'antropocentrismo perché a volte come in questo caso secondo me lo dico senza voler suonare offensivo o quant'altro si rischia di prendere delle cantonate soprattutto si rischia secondo me di perdere la visione d'insieme dell'argomento certo lui potrebbe dire la stessa cosa di me e quindi ovviamente rimango aperto ad ogni controcritica e anzi se ne venisse fuori un dibattito costruttivo secondo me sarebbe solo una cosa positiva questo era tutto spero che il video vi sia piaciuto sarà stato lunghissimo ma spero che sia stato informativo ringrazio tutti i sostenitori di polemica in pillole vi ricordo che anche voi potete sostenere polemica in pillole iscrivendovi alla pagina patreon se il video vi è piaciuto condividetelo lasciate un like se avete domande scrivetele nei commenti mi ricordo che c'è anche il polemistore tanti gadget fighissimi ci vediamo alla prossima polemica